Perché ho deciso di aprire Fabiglia a Montegrotto Terme? Ho deciso di aprire Fabiglia perché credo che tutti i bambini meritino una vacanza, progettata su misura per loro. Una vacanza dove tutto è pensato per farli stare bene e farli divertire. Una vacanza in un hotel dedicato solo a loro e alle famiglie? Credo in questi valori e ho deciso di offrire questo servizio alle famiglie. Fino a ieri Fabiglia era una vacanza al mare e vacanza in montagna. Ho pensato che i bambini hanno bisogno anche delle Terme e proprio per questo oggi apre ufficialmente Fabiglia a Montegrotto Terme, il primo hotel termale per famiglie con bambini. E se hai bambini da 1 a 15 anni, Fabiglia a Montegrotto Terme è per te. Ti aspetto col mio staff. A presto! Fabiglia!